buongiorno oggi sono qui nella splendida cornice un po nebbiosa del monte labro qui in toscana all'eremo di davide lazaretti e ho portato con me gli accessori che mi sono arrivati dall'australia questo è il case quello che dove mettiamo il telecomando questo è il porta drone e questo il porta batterie per venire su naturalmente ho messo tutto la cintura ho camminato in completa libertà senza zaini senza niente e ho come tutto l'occorrente per fare un bellissimo volo e vi farò vedere quello che ho realizzato oggi ciao a tutti da bob grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti